Allora siamo Luca e Garrison, vogliamo dirvi che se volete vedere e commentare le puntate di Daytime e soprattutto vedere i vostri messaggi in tv cosa devono fare? Ah posso leggerlo perché vuole essere deciso, ok leggo, usate hashtag ufficiale amicitretrici su Twitter o commentate i post sulla pagina Facebook di RealTime, sei stato chiaro? Sei stato chiaro? Hai anche letto, vuoi dirlo? Hashtag amicitredici o Twitter o commentate sulla pagina di Facebook o... Hashtag amicitredici su Twitter o commentate i post sulla pagina di Facebook di RealTime. Cosa hai detto? Niente.